Al mio nottario metto mano ogni giorno scrivendo quello che è il contrario di un diario. Se il diario accoglie le annotazioni diurne della percezione, il nottario rivela i soprassalti notturni del pensiero. Il mio nottario non è dissimile dal palè ideal del postino Ferdinand Cheval, assemblato pietra dopo pietra, notte dopo notte, in decenni di semifole lucidità. E questo è il mandato a cui devo obbedire, senza libri a cui obbedire la vita perde senso. Libri che siano sorgenti, matrici, inizi, come lo è questo nottario, crogiuolo di possibili opere in corso.